6,24 euro Ciao gente Ciao a tutti Mio collega è venuto a darmi il cambio perché dovevo andare in pausa e dietro ad altri clienti c'era questa signora appena lui si è seduto in cassa questa signora ha cominciato a inveire contro di lui dicendogli parole razziste perché non voleva essere servita assolutamente da lui chiedendomi a me di servirla io e la mia risposta è stata che assolutamente no perché se non vuole essere servita da lui non la servo neanch'io perché Manuel è una persona speciale e non devono esistere cose del genere Lei che cosa ha provato quando ha visto quella scena? Mi sono sentita male, ero mortificata perché comunque ho visto dai suoi occhi un dispiacere e non ha risposto, non ha detto una parola si vedeva che in quel momento soffriva in quel momento siamo rimasti tutti allibiti dopo che comunque gli ha lanciato anche addosso della merce noi non ci siamo sentiti di dire, di fare nulla siamo rimasti sconvolti Lei che idea si è fatta anche del nostro paese di quella che è la situazione attuale del nostro paese? Non mi piace questa situazione non mi piace come si svolgono le cose in questo periodo soprattutto con dei ragazzi che sono qua a lavorare e vi assicuro che Emanuele è un gran lavoratore è un gran lavoratore da tutto se stesso spesso prendere una posizione e schierarsi dalla parte anche del giusto se si vuole è difficile lei ha avuto il coraggio di farlo che cosa ha pensato nel momento in cui è stato un gesto istintivo cioè proprio mi è venuto dal cuore ha avuto una reazione naturale il più naturale possibile quello che mi andava da fare di fare in quel momento lì stamattina tra l'altro è venuta una signora per dare la sua solidarietà a Manuel ci ha portato questo che ancora lui non lo sa perché non è ancora arrivato al lavoro quindi siamo felici di questo siamo molto felici